e buongiorno cercatori d'oro benvenuti in questa micro pillola in cui voglio parlarvi di alcune mie opinioni per quanto riguarda la ricerca dell'oro in italia dal punto di vista della formazione delle pipite batteriche ho già fatto un video riguardo alle pipite d'oro batteriche la domanda che sta alla base di questo enorme discorso filone scientifico e la seguente stiamo proprio sicuri che le pipite d'oro finora trovate in italia di diversi grammi in peso talvolta anche decine di grammi ma di solito sotto il grammo siano veramente derivate dall'erosione smantellamento delle vene aurifere in montagna cioè di quelle vene che corrono lungo le alpi e nel tempo sono state semplicemente rose e i frammenti poi le trovarle in pianura ecco io sinceramente non ne sono più tanto convinto e vi spiego in questo video il perché ma parliamo delle pipite d'oro batteriche che cosa sono allora sono delle pipite d'oro generate principalmente dall'attività dei particolari batteri questi non vivono da soli bensì vivono formando delle vere e proprie colonie che si attaccano a delle superfici e via via nel tempo tendono a creare dei livelli partendo dalla superficie di partenza composti proprio di oro puro questo è importante perché loro tendenzialmente natura è una lega e non è puro al cento per cento quindi in questa lega ci sarà anche dell'argento e anche del rame talvolta capire quanto argento e rame c'è all'interno della pagliuzza d'oro del granule importante perché insieme altri elementi chimici possono costituire una vera e propria firma per comprendere dove sia il giacimento aurifero in montagna quindi andando analizzare i paliuzzi granuli d'oro presenti lungo i fiumi è possibile trovare il giacimento aurifero in montagna magari ancora incognito e di conseguenza capite che importanza economica può avere e infatti la prospezione di solito segue un andamento prima di ricerca in pienura via via si risale il fiume fino arrivare a giacimenti in montagna le pepeglie d'oro e batteriche invece sono abbastanza un'eccezione dovete capire che fin da quando la vena d'oro in montagna viene erosa quindi va in frammenti e di conseguenza anche alcuni minerali vengono alterati chimicamente esempio la pirite non è stabile a contatto con le acque superficiali con l'atmosfera inoltre dovete pensare anche che appena queste vene vengono a contatto con l'ambiente circostante c'è anche tutta la biosfera qui si parla di alberi si parla di batteri si parla di tutta questa sfera composta dalla vita e si è scoperto negli ultimi decenni che alcuni batteri potrebbero avere un'attività importante non solo nell'ingrandire alcuni granuli presenti e derivati dalla fermentazione delle vene piuttosto che formare delle vere e proprie pite d'oro capite che questo può essere un campanello d'allarme molto importante in australia per esempio dove si trovano quelle pepite grandi decine di grammi piuttosto che centinaia di grammi magari di fianco ci sono le vene orifere però quelle vene orifere non contengono delle masse d'oro di tali dimensioni contengono dei micro granuli allora come è possibile che nell'avena ci siano di micro granuli e poco di fianco all'avena nel deposito che si chiama eluviale vi siano delle pepite vere e proprie anche di centinaia di grammi ecco vi è quello cosiddetto arricchimento super genico questo arricchimento può essere dovuto proprio attività batterica e quindi io vi lascio alla fine questo video con una domanda che seguiranno altre micro pillole ovviamente in italia potrebbe essere alcune pepite d'oro siano proprio derivate dalla presenza di antiche colonie batteriche magari adesso semplicemente non più attive ma che hanno coinvolto i granuli presenti grazie all'erosione delle alpi nel tempo portando questi piccoli granuli ad essere delle vere e proprie pepite capite questi granuli magari erano pesanti poche frazioni milligrammo e adesso magari trovate che sono dei miligrammi quindi non è detto che la pepita d'oro debba essere da pochi grammi a centinaia di grammi può essere anche una dimensione minuscola che diventa invece una dimensione tangibile grazie all'attività batterica come possiamo capire quali sono le pepite batteriche quelle no questa è un'ottima domanda l'approfondiremo insieme nei prossimi video grazie 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 grazie